Ci ha colto un po' di sorpresa perché queste cose le abbiamo praticamente recepite tramite la stampa perché noi ci confrontiamo con le autorità d'ambito, quindi l'ATA e da quello che ne abbiamo capito non sapevano assolutamente niente di questa iniziativa. Analogamente ci confrontiamo anche con Marche Multiservizi e anche loro erano all'oscuro di questa iniziativa quindi siamo da una parte un po' curiosi, sicuramente per noi ci interessa gestire questa partita perché penso che sia di primaria importanza intanto per l'ambiente, in secondo luogo per ASET perché gestire dei servizi è la strada migliore per garantirsi un futuro, per garantire un'efficienza e per la ricaduta sul territorio perché riteniamo che avere un impianto del genere in un comune come Fano possa portare molto a una città come Fano, ai cittadini fanesi oggi e in futuro, parliamo di vent'anni di eventuali contributi che potrebbero essere riconosciuti dall'autorità d'ambito. Poi se c'è qualcuno che vuole rinunciare a cuore leggero a queste situazioni quindi ad un arricchimento importante sotto tutti i punti di vista di una città come ASET e di coloro che collaboreranno in questa impresa e ai benefici che potrebbero richiedere sul territorio, parlando di amministrazione comunale di Fano, ci facciano sapere qualcosa e ci dicono in pratica come la pensano. Noi pensiamo che è il momento di andare avanti, punto e basta. In questo caso due realtà simili al suo sapere possono coesistere in un unico territorio? Ma io non so se possono coesistere, so che comunque c'è un'autorità d'ambito che regola questo genere di impianti, di rapporti sul territorio e tutto il resto. Quindi da quello che ho capito io a livello insomma nazionale si va verso una sorta di impiantistica che non superi l'ambito provinciale. Poi c'è una parte privata che si dovrà collare determinati rischi e quindi si vedrà insomma l'esito. Però è una realtà che non conosciamo, è una società con la quale non abbiamo mai avuto nulla a che fare, un territorio che non si è mai rapportato con noi in questi termini. Quindi ci rimane molto difficile parlare di ipotesi, suggestioni e quant'altro. Ecco sulla carta loro hanno già presentato in provincia un progetto di fattibilità, anche il comune di Barchi lo ha ricevuto. Per quanto riguarda il vostro iter invece qual è lo stato dell'arte? Ma noi aspettiamo che il comune ci dia l'input per le fattibilità. Abbiamo tre fattibilità su tre luoghi e quindi con la fattibilità si capirà praticamente qual è il sito migliore, il più consono alle caratteristiche che noi ricerchiamo e a quello che in pratica è il territorio.